Perplessità su alcune misure annunciate dal Premier Conte per la fase 2 sono state espresse dal Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. In particolare le riserve del Governatore riguardano l'apertura a giugno di alcune attività come ad esempio i barbieri, i parrucchieri, i bar e i ristoranti con misure considerate da Musumeci o troppo stringenti o contraddittorie. Secondo il Presidente della Regione è sbagliato anche in rinviare a giugno la riapertura delle piccole botteghe. Sarebbe bastato, dice, autorizzarli con l'obbligo di ricevere un massimo di clienti al giorno, tutti per appuntamento. Non credo si formerebbero assembramenti e sarebbe un modo per migliaia di attività che riguardano barbieri e parrucchieri di ripartire seppur a scartamento ridotto per poter almeno pagare l'affitto delle botteghe. Dico questo, ha sottolineato ancora, pur avendo adottato in Sicilia misure severe che però hanno dato risultati. Occorre riuscire a coniugare la linea della prudenza con quella della ripartenza. Un altro settore che suscita le preoccupazioni del Governatore della Sicilia per le ricadute economiche è quello del turismo. Anche per questo motivo, ha ricordato Musumeci, ho autorizzato i lidi balneari alla pulizia delle spiagge e a tutte le iniziative necessarie in attesa della riapertura della stagione. Stiamo lavorando insieme ai presidenti delle regioni, ha aggiunto, per poter chiedere a Conte di rivedere alcune cose e tentare di salvare il salvabile. Prima però dobbiamo metterci d'accordo anche tra di noi perché c'è chi dice cose diverse.